il quarto incontro con la dottoressa Miriam Gandolfi Martinelli che ringraziamo per essere qui con noi. MAD in Italy è un sito di informazione scientifica nell'ambito della salute mentale, MAD fa parte della rete internazionale MIA Global e tutte le reti fanno capo a MAD in America di Robert Whitaker. Io sono Laura Guerra, sono biologa e farmacologa, traduttrice dei libri di Peter Bragg in la sospensione degli psicofarmaci e del libro di Joanna Moncrief, Le pillole più amare. Con me c'è il mio co-amministratore di MAD, Marcello Maviglia, psichiatra, professore e consulente scientifico per il Centro per la Salute dei Nativi Americani presso l'Università del New Messico. Marcello presta servizio in una clinica specializzata per la sospensione degli psicofarmaci in Albuquerque, sempre nel New Messico. Ringraziamo Miriam per essere qui con noi. La dottoressa Miriam Gandolfi è psicologa e psicoterapeuta. Dal 2020 è docente a contratto presso l'Università di Bergamo per il Corso di Alta Formazione sui disturbi specifici dell'apprendimento, i famosi DSA. Riveste la carica di primo Presidente dell'Ordine Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano. Scusa, gli psicologi mi sono già accorta perché sennò sembra che sono Presidente della Provincia, grazie a Dio no. Ah, scusami, Presidente dell'Ordine Provinciale dei Psicologi della Provincia Autonoma di Bolzano. Dal 92 è cotitolare del Centro di Psicologia della Comunicazione e dell'Officina del Pensiero a Bolzano e a Trento, dove svolge e coordina attività di ricerca, in particolare nell'ambito dell'autismo, dei DSA, cioè disturbi specifici dell'apprendimento e dell'ADHD o sindrome da deficit dell'attenzione e iperattività. Temi su cui ha prodotto molte pubblicazioni, alcune delle quali le potete trovare sul nostro sito Mad in Italy, dove Miriam è presente come autrice. Sul sito potete trovare anche video delle sue precedenti conferenze. Oggi riprendiamo il discorso cominciato la volta scorsa sui disturbi del comportamento alimentare, quindi anoressia e bulimia. La dottoressa Gandolfi nel corso di queste presentazioni ci sta spiegando in cosa consiste l'approccio psicoterapeutico sistemico, approccio che vede il disturbo psichico non come un disturbo che riguarda l'individuo, ma come un risultato delle relazioni che l'individuo vive con le persone significative. Nel corso della terza presentazione ha introdotto il tema dell'anoressia, disturbo che si può presentare nelle famiglie, dall'apparenza perfetta, ma nel cui particolare contesto relazionale si attuano dolorosi giochi di potere e di controllo, se non ho interpretato male. Miriam, a te la parola. Grazie. Allora, da quello che mi diceva Laura, abbiamo dei nuovi ospiti partecipanti rispetto alle... faccio questa domanda perché la premessa di come concepiamo la teoria della mente su cui si basa la sistemica che appunto si è evoluta in un approccio ancora più affine alle teorie della complessità che riguardano lo sviluppo in generale del pensiero scientifico, è fondamentale per capire come viene spiegato e quindi affrontato dal punto di vista terapeutico questo tipo di problema. Sottolineo subito questa cosa, quando parliamo di disturbi alimentari e in particolare di disturbi alimentari restrittivi perché restrittivi ci interessano di più, perché naturalmente intanto mettono a rischio la vita della persona che eventualmente lo sviluppa e quindi genera anche una grandissima sofferenza all'interno della famiglia e sappiamo, non so come sia in America Marcello, ma in Italia sta generando anche un business e anche una grande spesa economica perché ci sono... sorgono come funghi delle comunità specializzate dove poi queste persone vengono ricoverate per periodi anche lunghi, di un anno. Ci sono anche delle serie televisive che mi si consenta, io trovo abbastanza pornografiche in cui proprio in queste settimane vengono appunto presentati questi centri con il modo di lavorare vengono secondo me in maniera anche trovo disumana presentate queste persone come se fossero dei modelli da non... quasi un po' dei criminali che non debbono essere emulati mentre invece sappiamo che è un disturbo in aumento. Allora, faccio una piccola... l'altra volta abbiamo chiuso con un partecipante che ci ha dato un'indicazione bibliografica sul tema delle metafore che naturalmente è fondamentale quando si fa la psicoterapia e avrei poi magari qualcosa da dire e quindi parto utilizzando una metafora per capire questo salto che è un salto epistemologico, cioè che cambia le premesse del modello scientifico con cui ci spieghiamo la realtà. Allora, un approccio diciamo strettamente comportamentistico un approccio alla mente, al comportamento di tipo comportamentistico lo potremmo rappresentare come noi vogliamo avere una pianta prendiamo un seme, lo piantiamo, la terra deve essere ambiente quindi concimata dare l'acqua giusta, i genitori devono fare delle cose ma ciò che conta è la struttura intrinseca geneticamente determinata del seme quindi la differenza tra la pianta che uscirà da questo seme a parità di innaffio e di terreno è messo nell'accento intrinseco a quella che è la struttura genetica del seme quindi quello che noi diciamo è una lettura altamente individuale. La psicanalisi fa un passo avanti e qui vi faccio un'altra metafora dal punto di vista, permettetemi così, del giardinaggio. Avete presente i filari di uva che hanno all'inizio delle piante di rosa non è che è una questione estetica, le viti e le piante di rose si aiutano a contrastare i parassiti per cui la rosa segnala per tempo quando la vite potrebbe ammalarsi di un parassita non so se questo sia noto ma vedete come qui abbiamo una diade cioè la capacità in natura di stringere delle relazioni diadiche così come sappiamo che alcune piante non amano stare vicino ad altre piante e quindi provvedono ad eliminarle quelle che non funzionano e qui siamo in una relazione diadica e parto dal mondo vegetale perché noi siamo arrivati, ve l'ho già accennato, in ritardo a riconoscere che tutti gli esseri viventi hanno questa capacità di mettersi in contatto cioè la cosa fondamentale è la relazione o con il mondo esterno se rimaniamo al discorso del seme o addirittura con altre piante se rimaniamo alla vite ma noi siamo esseri, siamo mammiferi quindi siamo degli animali più, degli esseri viventi più articolati e faccio spesso questo esempio chi di voi ha un cane o forse un gatto avrà fatto l'esperienza che il cane si comporta diversamente a seconda di chi è il membro della famiglia che in quel momento interagisce con lui addirittura un cane è in grado di avere una mappa relazionale per cui diversifica la sua definizione del sé passatemi questo termine cioè chi sono io in rapporto al membro della famiglia e quindi all'estraneo allora spostiamo questo al concetto di costruzione del sé in termini umani ed era quello che vi avevo illustrato la volta precedente dicendovi che dal punto di vista della teoria sistemica e sempre più orientata a comprendere la complessità delle relazioni il concetto di personalità è ciò che si sviluppa nel processo storico di ogni soggetto in cui c'è questo spostamento tra chi vorrei essere io per me e come posso essere io per me pur appartenendo alle persone che sono importanti faccio un esempio nelle separazioni conflittuali cerco di prendere delle situazioni un po' estreme perché questo ci aiuta a capire meglio negli anni 70 dopo la legge sul divorzio è partita questa roba che poverini, bambini, di genitori separati sarebbero tutti stati dei bambini devastati sul piano psicologico ricordo perfettamente come in quegli anni dove c'è stato il boom per esempio dell'uso delle sostanze e delle tossicodipendenze come questo venisse attribuito come causa delle separazioni anche qui vedete c'è sempre questa tentazione di trovare una causa mentre invece naturalmente molte con cause e la connessione di molti eventi può appunto esitare in comportamenti simili torno al discorso della separazione non è poi si è capito e anche proprio grazie al modello sistemico non è la separazione che crea patologia nel bambino anzi in determinate situazioni è la salvezza e sono addirittura i bambini che dicono mamma ma perché non ti separi ho avuto dei casi addirittura di bambini che chiamavano la 10 anni chiamavano la polizia e dicevano venga, venga a portare via mio papà perché tratta male la mia mamma non tutte le separazioni sono così estreme ma ripeto prendo un esempio un po' estremo per capirci meglio quando è che diventa patogenetica una separazione? quando il bambino che desidera essere il bambino della sua mamma e il bambino del suo papà riceve un messaggio paradossale esplicito o implicito peggio ancora se sei contento se stai bene con il papà io mamma sono scontenta io mamma sono scontenta o viceversa il papà dice eh sì certo tu preferisci la mamma non vuoi mai venire con me per esempio tutto il problema della sindrome di alienazione parentale che comunque insomma richiede una serie di precisazioni allora questo cosa ci dice il bambino è in una posizione paradossale tra ciò che lui prova essere il piacere desiderare di essere il cucciolo della sua mamma il cucciolo del suo papà ma se è il cucciolo del papà si sente un traditore verso la mamma quindi perde un'appartenenza importante non so se sono riuscita a chiarire questo passaggio fondamentale perché vedremo che nei disturbi alimentari restrittivi questa è una tematica estremamente presente ovvero si trovano delle situazioni di apparente felicità tutte le famiglie con disturbi alimentari vengono descritte in letteratura come delle famiglie del mulino bianco si presentano come delle famiglie perfette come delle famiglie in cui non esiste conflitto ma in realtà in maniera a volte sotterranea a volte semplicemente non visibile per l'estraneo con una grossa conflittualità all'interno della coppia o all'interno della coppia e anche verso le famiglie d'origine vi ho detto che il modello sistemico pone una grande attenzione alle figure importanti alle figure effettivamente importanti di accudimento delle famiglie allargate quindi dove esiste il papà e la mamma sono una coppia perfetta dobbiamo andare d'accordo la società prevede che ma poi in altri contesti il futuro paziente designato se vi ricordate l'abbiamo chiamato così non perché il capro espiatorio ma perché è colui che esprime e cerca anche un po' come un apprendista stregone quindi facendo anche dei pasticci di risolvere dei problemi che stanno ad un altro livello che è quello dei genitori per l'appunto e quindi la persona che svilupperà un discorso un disturbo alimentare e questo ci spiega perché i disturbi alimentari di questo tipo si sviluppano nella fase di sgancio dell'adolescente questo è un altro dato come dire riconosciuto qualunque sia l'approccio da quello più organicista tradizionale a quello di qualunque teoria psicologica noi sappiamo che è legato al momento dell'entrata nella vita adolescenziale tant'è vero che per fare diagnosi di disturbo alimentare restrittivo nelle ragazze nelle femmine bisogna che compaia il sintomo della menorrea cioè della perdita delle mestruazioni e che la cosiddetta diciamo guarigione non è legata all'aumento di peso che di per sé può avere a che fare con noi sappiamo che una grande magrezza può portare alla menorrea ma anche se ci troviamo di fronte a un problema di disturbo alimentare psicogeno posso avere la ripresa del peso ma non la ripresa delle mestruazioni questo è indicare che è proprio il passaggio da un'infanzia al momento dell'adolescenza inteso come momento di sgancio dalla famiglia quindi il tema che è stato messo in evidenza l'altra volta avevo accennato proprio da Mara Selvini Parazzoli che è madre nobile dell'approccio sistemico e che è stata conosciutissima anzi più apprezzata prima in America e in Germania in Austria che non in Italia come spesso avviene come dire ai nostri cervelli era appunto stata la prima a mettere in evidenza questa situazione di famiglie impeccabili per certi aspetti e quindi anche qui andando a smantellare il pregiudizio che la psicopatologia sia il frutto di famiglie disastrate la psicopatologia è democratica mi verrebbe da dire può capitare in qualunque famiglia dipende dalla correttezza dei processi conversazionali se uso questa parola che non è chiara poi qualcuno me lo vuole domandare ci torno ma altrimenti vado avanti allora qui che cosa succede che nel momento in cui una famiglia ha funzionato perfettamente fino a un certo momento e così infatti loro dicono ma noi siamo stati una famiglia felicissima andava tutto benissimo improvvisamente questa ragazza quindi è la matta ci crea un disastro e ci segnala e ci impedisce di andare avanti con la nostra vita e questo è poi anche uno dei motivi per cui questi pazienti prevalentemente femmine ma non solo sviluppano dei grandissimi sensi di colpa perché si percepiscono come i distruttori della armonia familiare senso di colpa che poi loro trasferiscono nel momento in cui mangiano introducono il cibo che prima dello sviluppo del sintomo era sempre percepito come un atto di piacere proprio ieri ho fatto una supervisione a una collega e nel momento in cui mi raccontava il caso mi diceva che questa ragazza che era in leggero sovrappeso ma insomma niente di patologico da quando sviluppa il sintomo ha fatto questo patto con la mamma ogni volta che prende un bel voto la mamma la porta da McDonald's e lei mangia le schifezze di McDonald's perché questa era una famiglia salutista dove non si mangiano le robe di McDonald's allora vedete come per concedermi un piacere devo guadagnarmelo con grande fatica e con l'approvazione dei miei genitori che ci tengono tantissimo che io funzioni bene a scuola noi sappiamo che un'altra caratteristica dei pazienti delle pazienti con un disturbo alimentare restrittivo è quello che investono moltissimo nel successo scolastico e questo perché il successo scolastico ha due aspetti fondamentali fare bella figura quindi troviamo sempre delle pazienti ma anche delle famiglie che sono molto dipendenti dal giudizio altrui allora vedete l'appartenenza si ottiene a prezzo dell'obbedienza io nella mia famiglia posso sentirmi la mamma la figlia della mia mamma del mio papà anche se sono virgolette cattiva se sono dissonante se mi vesto se mi faccio i tatuaggi se mi faccio la cresta arancione o mi viene detto se fai una roba così tu con questa famiglia non hai niente a che fare vedete perché vi ho introdotto il tema posso fare quello che mi sento oppure l'appartenenza quindi torno al discorso della scuola il discorso della scuola è grande indica questa dipendenza questa necessità di avere sempre il massimo dei voti mi racconta che per quella famiglia il giudizio esterno è estremamente fondamentale una seconda cosa ricordiamoci che il successo scolastico è percepito anche se adesso il nostro sistema di sviluppo va in crisi è percepito come il mezzo come l'entrata al successo sociale quindi il discorso dell'affermazione ecco perché per esempio noi troviamo delle ragazze che funzionano benissimo fino o l'ultimo anno di scuola superiore o con l'inizio dell'università e poi improvvisamente non funzionano più nemmeno a scuola si fermano non riescono più a frequentare a volte perché a causa del sintomo stanno così male quindi vengono allontanati vanno nelle comunità cioè dove la richiesta di prestazione avviene a un punto così alto e teniamo presente che tutti gli studenti ogni tanto hanno voglia di cazzeggiare passatemi il termine di fare blau di non studiare sempre al massimo allora io studio perché mi piace e certamente sono anche persone interessate o studio perché per appartenere per essere la figlia di devo essere bravo a scuola allora vorrei fermarmi un attimo a questo step e preferirei avere un feedback se fino qui chi mi ha ascoltato ha compreso il discorso e ha una struttura comprensibile c'è qualcuno che vuole segnalare o che fa un ok o che Marcello io mi riferisco sempre al mio collega al mio alter ego clinico certamente inviterei le persone a intervenire secondo me è stata molto chiara come sempre Miriam c'è il signor Cosatto che aveva messo il pollice non so se è un pollice di intervento o di ok Eros vuoi intervenire? Vi spiego perché faccio questa pausa perché la uso come piattaforma per un salto un pochino più complesso vi ho detto che la sistemica è benissimo molto chiaro sono contento ok se non sono chiara fermatemi preferisco grazie mille forse vorrei siccome nessuno è intervenuto ma non voglio andare avanti diciamo così con con osservazioni che forse coprirai dopo ma e questa è un'osservazione terra terra no cioè tu parli molto di donne ragazze ora in realtà anche i maschi sono vittime di queste di queste dinamiche no e se ne parla un po' di più adesso negli anni recenti ecco potresti elaborare un po' sul come il maschio certo questo mi introduce adesso al prossimo passo perché allora attenzione quando si andava a vedere la distribuzione epidemiologica fino a diciamo cinque anni fa tenete presente che normalmente i rilevamenti epidemiologici hanno degli andamenti più o meno quinquennali allora la percentuale era di uno a dieci un maschio su dieci femmine ok io ho già detto che mi è capitato di mentre ho lavorato lavoro tuttora anche ieri ho fatto da supervisor con ragazze famiglie con ragazze femmine con disturbi alimentari ma ne ho non potrei più dire quante con quante ho lavorato in tutti questi anni ho perfettamente memoria di aver lavorato con tre maschi quindi la proporzione è stratosferica allora io ho usato il termine disturbo alimentare psicogeno perché attenzione nelle femmine noi lo troviamo conclamato come un disturbo altamente restrittivo che può addirittura mettere la paziente in pericolo di vita vi ho già detto che ahimè mi è capitato di avere una paziente che è morta e mi ha detto io decido credo che potrò vivere senza corpo non ho potuto fare nulla e ovviamente mi ha insegnato molte cose sull'illusione di ogni potenza del terapeuta con i maschi troviamo una forma un po' diversa e quindi adesso la riconosciamo che prende anche un altro nome di vigoressia e questo adesso mi aiuta a introdurre a un passo successivo che è quello di disturbo etnico oppure poi vedremo perché si chiama così ovvero giovani giovani ragazzi che sempre siamo nella fase dello sviluppo che cercano di modellare in maniera ossessiva il proprio corpo e di fa e fanno attività fisica che lo fanno anche le femmine solo che nei maschi appare come dire è più nascosto perché l'idea che i maschi facciano sport che è uno stereotipo culturale adesso arriva anche per le femmine quindi la differenza di genere che è sempre una differenza non solo biologica ma prevalentemente culturale ci fa scoprire allora adesso io mi accorgo sto sempre molto attenta quando faccio l'anamnesi anche in persone adulte che appaiono assolutamente compensate ma che sono ossessionate dal controllo dell'alimentazione e della cura fisica in una maniera particolare quindi noi non abbiamo ancora dei dati statistici epidemiologici proprio per questo motivo perché la nostra lente è quella di dire il peso in realtà il peso c'entra pochissimo e qui è stato il grande apporto dell'approccio sistemico che se vi ricordate vi dicevo una delle premesse fondamentali è che ogni comportamento è una comunicazione ha un valore di comunicazione quindi un significato che è necessario a strutturare e mantenere le relazioni sono io il tuo bambino sono io il tuo partner anche attenzione perfino questo modello è stato utilizzato nelle analisi istituzionali sempre da Mara Selvini Parazzoli sono il tuo non so primario prima Marcello diceva se io non lavorassi in questa università non potrei essere chi sono quindi anche come professionista quindi questo è un discorso che vale per i cani che sanno se possono salire sul divano e quando fino alle analisi tant'è che Bateson si è occupato addirittura dell'analisi dei processi di guerra guarda caso che ci interessa molto quindi cambiando lo sguardo e andando a vedere quali sono i comportamenti attraverso cui si mantiene l'appartenenza e l'autodefinizione noi cominciamo a scoprire che anche i maschi in una forma diversa ma sempre con le stesse caratteristiche sul piano dello svincolo e poi dell'appartenenza all'interno del nucleo familiare adesso faccio un passo avanti perché ve l'ho già buttato lì e questo dei maschi mi aiuta a farlo ho usato questo termine disturbo etnico allora vi segnalo che quando si è trattato di studiare i disturbi alimentari restrittivi che per l'appunto rivestono una l'altra volta c'era qualcuno che diceva ma io ho sentito dire che le anoressiche quelle dure va bene io le chiamo affettuosamente passatemelo le anoressicone ma lo dico in maniera come dire proprio affettuosa perché insomma penso che non penso so che soffrono tantissimo sono quelle che mi pareva che la persona avesse detto se la godono narcisisticamente no? e io ho detto no guardate non esiste la sofferenza è enorme e quindi è stato un fenomeno che ha portato a degli studi retroattivi nella storia per appunto e lì che cosa troviamo le donne ascette ma anche gli uomini ascetti gli stiliti coloro che vivevano che si isolavano dalla comunità e che pensate a San Francesco che è il patrolo l'Italia noi potremmo cominciare a pensare che lui aveva una forma mentis del tipo a cui noi ci stiamo avvicinando che cosa voglio dire si è scoperto che cosa che in determinate culture e in determinati momenti storici dove naturalmente l'appartenenza gioca un ruolo cioè è socialmente determinata determinati comportamenti definiti patologici emergevano in maniera più più forte l'altra volta vi dicevo che Mara Selvini Palazzoli ha individuato questo problema quando nel 46 subito dopo la guerra lei è capitata una ragazza che rifiutava il cibo lei diceva non è possibile abbiamo tutti patito la fame e da lì lei ha capito che era una protesta cioè che emergeva vedete che ho usato questo termine qualità emergente che spiega un problema ad un altro livello che doveva avere un altro significato allora tra gli studiosi di questi dei comportamenti psicopatologici tra cui disturbi alimentari c'è tale Richard Gordon che ha intorno agli anni 80 ha formulato questo concetto di disturbo etnico attenzione non è che lui ha inventato niente di nuovo io credo che nessuno inventi niente di nuovo può andare avanti con la scienza perché il problema della connessione tra cultura e tipo di psicopatologia che si sviluppa è un problema che è iniziato già negli anni 50 per esempio con Franz Fanon che era uno psichiatra delle Antille lui aveva studiato poi a Parigi e aveva cominciato a sviluppare una teoria che spiegava la psicopatologia come determinata dai giochi di potere tra cultura dominante e cultura soccombente da qui capisci Marcello perché mi sono subito appassionata al tuo discorso perché sono anni che me ne occupo per certi aspetti allora che cosa abbiamo scoperto che fino agli anni 70 i disturbi di anoressia erano appannaggio del modello di sviluppo occidentale ad oggi noi troviamo disturbi di tipo anoressico cioè restrittivo anche nei paesi cosiddetti emergenti ma dove la povertà e la crisi alimentare è presente così come l'aveva vista la Selvini allora si è capito che cosa che doveva esprimere qualcos'altro ed era esattamente la rappresentazione di quelli che sono i valori o le caratteristiche di quella cultura particolare Gordon ha sviluppato il concetto di disturbo etnico perché ha cominciato a individuare che in determinati parti del globo ci sono dei sintomi che non troviamo in altri credo di avervelo accennato per esempio in in Malesia esisteva questo AMOC che adesso cominciamo ad avere abbiamo avuto dei casi anche in Germania ma tenete presente da alcuni anni che abbiamo dei flussi migratori molto molto intensi e l'AMOC sono queste persone che partono di corsa e fanno delle stragi apparentemente immotivate vi verranno in mente ci sono stati adesso vengono attribuiti ai foreign fighters per esempio queste tecniche dove mi pare anche a Londra l'anno scorso uno parte sul ponte non mi ricordo quale e con un coltello ammazza una quantità di persone dopodiché dicono matto vedete questo ci impedisce di capire che cosa ha generato allora venendo al disturbo alimentare perché il disturbo alimentare è così diffuso ed è in continua crescita in questo momento storico bene noi stiamo andando incontro a una globalizzazione della costruzione delle persone e quindi proprio questo sintomo diventa dominante ricordiamoci che questa intuizione l'aveva avuta anche Freud quando sappiamo che lui attribuiva quello che lui chiamava un disturbo esterico oggi non si usa più questo termine neanche psichiatria lo attribuiva come un disturbo delle donne e lo riferiva al problema di inibizione controllo sessuale a cui le donne erano sottoposte in quel momento storico e nel modello culturale come dire europeo comunque occidentale di matrice europea perché l'america all'epoca guardava con grande ammirazione all'europa oggi si è capovolto è l'europa che guarda con grande invidia e ammirazione all'america allora fino a qui è chiaro perché adesso vi spiego qual è la teoria per cui si pensa che sia utile utilizzare questo concetto cioè se vogliamo chiamarlo etnico che suona un po' male soprattutto in alto adige ma che dice quanto peso ha il modello culturale nel in questo in questo processo di definizione chi sono io per me ma posso appartenere non solo alla mia famiglia ma anche alla mia micro cultura e poi alla macro cultura io che vivo in alto adige e lavoro naturalmente con famiglie miste mi viene in mente il caso di una famiglia che si era rivolta appunto per un problema che riguardava in questo caso non era un disturbo alimentare restrittivo ma comunque un problema dei due figli e quando ho fatto l'anamnesi che si fa sempre in maniera molto precisa quindi sulla costruzione della coppia era emersa una cosa interessante la signora non parlo di persone più giovani di me quindi non parlo di robe dell'ottocento la signora madrelingua tedesca uscita di casa in maniera precoce perché già a 14 anni aveva cominciato a lavorare ha studiato quindi una donna aveva conosciuto il suo futuro marito che era di madrelingua italiana si innamorano decidono di sposarsi bene la signora mi dice i miei genitori hanno fatto di tutto perché io non sposassi voi sapete che in Alto Adige si usa in tono dispregiativo non solo il terrone lo dicono gli italiani dei meridionali in Alto Adige si dice valce per dire uno di madrelingua italiana si dice valce e noi diciamo un crucco per parlare in maniera un po' dispregiativa dell'altro gruppo questo nel linguaggio perché purtroppo insomma i conflitti quando i gruppi si fondono in maniera non spontanea avvengono bene questa signora mi dice sono andata a sposarmi nessuno della mia famiglia è venuto al matrimonio allora voi capite che qui la questione è posso fare quello che io voglio mi sento di scegliere il partner eccetera eccetera ma devo rinunciare all'appartenenza alla mia famiglia ecco questa che noi chiamiamo appartenenza paradossale se sono una cosa non posso essere l'altra la salute mentale si nutre del non o o o sei crucco o sei tedesco o sei nativo o sei o sei comunista come come lo stesso noi lo troviamo per esempio per la religione o sei testimone di geova e non puoi dico testimone di geova ma potrei dire cattolico potrei dire musulmano altrimenti non puoi essere di questo nucleo di questa cultura eppure anche diverso pensate ai matrimoni per esempio misti di persone che hanno religioni diverse questa è un'altra cosa che in epoca di grande migrazione diventa un problema importante quindi lo possiamo trovare nella micro cultura familiare io esco da una famiglia benestante e mi sposo o scelgo come partner il figlio dell'operaio che magari non è neanche laureato questa è un'appartenenza paradossale non posso essere e l'uno e l'altro oppure in un contesto un pochino più allargato una un'appartenenza culturale diversa adesso guardate che cosa succede con la guerra notizia di ieri hanno non ammesso un concorso musicale mi pare una violinista russa semplicemente perché è russa e voi sapete che questo è motivo di polemica io trovo anche di vergogna certamente perché non può essere questa una motivazione ma per mostrarvi che questo procedimento dell'appartenenza paradossale cioè che non ha soluzione paradossale vuol dire questo non c'è via d'uscita sono sempre sbagliato se sono su un versante sono parzialmente sbagliato se sono sull'altro versante sono parzialmente sbagliato quindi chi sono io per me e l'appartenenza confliggono chiaro questo passaggio allora per non fare confusione vi leggo con precisione che cos'è perché è un concetto affascinantissimo ma anche un po' complesso allora intanto vi ho tirato fuori una citazione di Giuliana Prata che è stata la prima co-terapeuta di Mara Selvini Palazzoli che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere era già molto anziana perché naturalmente erano persone cioè non erano solo le mie madri formative avevano un'età come la mia mamma veramente e lei sostiene nel descrivere le famiglie anoressiche dice parla delle famiglie per l'appunto perché nessuno vedete non c'è più una lettura individuale dice nelle famiglie anoressiche nessuno fa qualcosa perché gli piace allora vi ho fatto prima l'esempio studio perché devo essere il primo non posso mangiare perché mi piace perché altrimenti ho ceduto al piacere il piacere è vissuto come una debolezza ma ognuno fa ogni cosa per vincere e per questo scopo si cerca degli alleati guardate adesso abbiamo abbiamo avuto prima la gestione della pandemia che si vedeva uguale no? se la pensi così sei contro lo vediamo adesso con la guerra terribilmente allora anche l'esperto questa è la cosa importante poi nell'intervenire anche l'esperto è cercato a questo scopo allora arrivano i genitori e dicono no guardi lei deve convincere mia figlia a mangiare poi arriva la coppia e il marito dice sì però mia moglie è proprio una pianta grane se non vuoi mangiare che lasci perdere la gallina che non becca già beccato e la moglie che dice ma sa come sono i maschi i maschi non le capiscono queste robe sono dei grezzi sentimentalmente faccio degli esempi un po' da stereotipo ma giusto per capire come avviene la conversazione cioè ogni argomento è motivo per combattere barra sottomettere l'interlocutore allora vi vi faccio qui un passo avanti per capire come questo tema perché appunto il disturbo alimentare restrittivo esplicito o mascherato ne abbiamo parlato per i maschi è generato permettetemi oppure è così pertinente rispetto al nostro modello di sviluppo e quindi il modo di trattare questi disturbi contiene un tarlo contiene un errore nelle modalità ad esempio quelle delle anche delle cliniche che si occupano eccetera e poi vedrete perché allora che caratteristiche deve avere un quadro patologico per poter essere definito è certamente anche individuale ma particolarmente pregnante in quel modello di sviluppo allora deve avere determinate caratteristiche che sono una frequenza maggiore rispetto ad altri tipi di patologia psichica allora noi sappiamo che al momento il disturbo alimentare è uno tra i più rilevanti adesso abbiamo anche l'autismo e l'ADHD allora l'autismo lasciamolo un attimo da parte ma questo aspetto di capire perché in un determinato momento storico abbiamo un incremento esponenziale di un tipico disturbo psichico ci dice dobbiamo andare a cercare prevalentemente le caratteristiche nel modello nel modello di sviluppo poi altra cosa interessante c'è continuità tra l'espressione patologica e il comportamento normale anzi auspicato e apprezzato allora mangiare in maniera sana non essere in sovrappeso avere un'alimentazione contenuta voi accendete la tv e contate quante pubblicità ci sono tra Kilo Cal Vita Snella sette tipi di yogurt per andare i lassativi cosa ci dice che il controllo dell'alimentazione e l'idea di controllare l'alimentazione viene molto valorizzato all'interno di quel modello culturale quindi è c'è di nuovo un paradosso no è un comportamento molto sottolineato molto valorizzato per certi aspetti ma poi quando è troppo allora sei matto è chiaro questo passaggio ulteriore elemento il disturbo evidenzia conflitti fondamentali e tensioni psicologiche normalmente diffuse in tutto il gruppo allora avere una certa competitività è una cosa che nel modello culturale soprattutto nel modello di sviluppo culturale occidentale attenzione pensate all'impostazione calvinista se hai successo se ti impegni vuol dire che Dio è con te non la pensano così solo i calvinisti ma insomma questo per dire che Dio è con te quando tu vinci è un pensiero purtroppo molto pericoloso che conosciamo la conflittualità quando noi diciamo a un bambino beh fatti valere con i tuoi compagni non vorrai mica essere chiedo scusa funziona tutto bene perché vedo Laura ferma sì posso procedere mi sentite posso procedere no molto bene non ti preoccupare te lo direi perfetto grazie ecco quindi di nuovo no c'è mette in evidenza il fatto che il discorso del come dire che in tutto il gruppo il non soccombere pensate alle esplosioni di bullismo fenomeno di cui adesso da alcuni anni ma soprattutto con la pandemia si sono espansi e anche qui guardate gli stereotipi se lo fanno le ragazzine e noi sappiamo che le ragazzine sono delle belve quando decidono di mettere in atto dei comportamenti di bullismo gruppale ma che strano lo fanno anche le femmine e sì certo lo fanno anche le femmine sono degli esseri umani come gli altri quindi vedete come il pregiudizio ci impedisce di capire che l'aggressività di gruppo riguarda gli esseri viventi tutti gli esseri viventi ok ed è è un comportamento che è presente in tutti i sintomi rappresentano l'estensione e l'esagerazione caricaturale di comportamenti normalmente considerati molto positivi discorso che facevo prima che noi siamo morigerati nel mangiare educazione alimentare in America avete il problema del sovrappeso noi adesso vi stiamo inseguendo mi ricordo quando lavoravo in pediatria che facevamo educazione alimentare alle scuole materne per evitare che i bambini arrivassero al sovrappeso e sappiamo che noi ci stiamo arrivando questo è per l'appunto un tema presente allora vedete come queste caratteristiche del comportamento generale del comportamento sono presenti e quali sono particolari particolarmente pertinenti per il modello di società occidentale allora l'ideologia del controllo del singolo sul mondo allora guardate come io valgo se ti domino io valgo se sono potente questo ci spiega le prime spiegazioni per cui si riteneva che fosse legato alla famiglia patriarcale ma noi sappiamo che la famiglia patriarcale è spesso un'illusione infatti nei disturbi alimentari psicogeni sia maschili che femminili noi troviamo dei fortissimi matriarcati già la Selvini aveva scoperto cosa che i mariti i padri erano delle figure marginali nel senso che lavoravano magari molto garantivano il benessere economico garantiscono il benessere economico ma sono delle figure che soccombono rispetto alla decisionalità femminile questo quando troviamo il sintomo nelle figure femminili capovolto quando lo troviamo nelle figure maschili abbiamo cominciato a capire qualcosa di più rispetto all'espressività di genere altra cosa e qui adesso devo dire che io ho scritto questo pezzo dicevo prima nel 98 mi sono stupita di quello che ho scritto perché c'è l'uomo coltiva la convinzione dell'onnipotenza sconfiggere la morte conoscere riprodurre il laboratorio il mistero della vita allora oggi è più che mai vero noi sappiamo che possiamo ordinare i bambini in provetta possiamo decidere la sessualità il progetto futuro e il transumanesimo addirittura poter ricostruire con pezzi di macchina l'essere umano quindi rispetto a quel momento siamo andati ancora oltre l'idea che l'uomo è come prometteo è onnipotente diventa diventa non so se voi conosciate quel libro molto interessante che si chiama Homo Deus di Harari quindi dove questa riflessione che concetto c'è dell'uomo inteso come essere umano vali io valgo la mia identità è positiva se io riesco a dominare l'altro quindi la valorizzazione del controllo e dell'esercizio del potere perfino sulle funzioni primarie è fondamentale per avere un valore personale dopodiché cosa succede se io lo faccio in maniera estrema ci sarà qualcuno che vuole essere più forte di me quella frase che vi ho letto di Prata no? non puoi mai rilassarti lei appunto scrive scusate tuttavia il perdente non si rassegna mai ed il vincente non può rilassarsi perché deve aspettarsi una contromossa dell'avversario che ha la speranza di indurre l'altro a fare ciò che gli desidera allora guardate questo scusatemi il piccolo salto ma è importante quando io voglio far prendere i farmaci a un paziente psichiatrico e glieli do di nascosto io voglio far mangiare mia figlia e metto di nascosto l'integratore a fare ciò che gli desidera allora guardate questo scusatemi il turcolo salto ma è importante quando io voglio far prendere i farmaci a un paziente psichiatrico e glieli do di nascosto io voglio far mangiare mia figlia e metto di nascosto ecco è passato il rimbombo c'è stato un momento allora quello che è successo Laura è uscita e è rientrata e probabilmente è responsabile di questo comunque vai avanti adesso mi pare che adesso vada vero adesso è tornato ecco allora per dirvi per esempio una cosa che succede c'era giusto un commento ho visto che diceva in mass media volentieri la persona che si era inserita con un commento dicendo è quello che viene trasmesso attraverso i mass media per esempio pensate nelle cliniche dove vengono accolte le persone con disturbi psichici normalmente mi pare di avervelo detto la volta scorsa ma qui vi risulta chiaro come in ospedale al paziente viene data la mattina la listina dove può scegliere il menu dentro due possibili combinazioni alle persone con disturbo alimentare viene imposto il menu perché tu ti devi sottomettere allora vedete come il modello terapeutico è coerente col modello culturale e pensa che può sconfiggere con lei o colui che si sente onnipotente questo è il motivo per cui finché sei e poi non sempre ce la si fa perché a me sono arrivate pazienti che hanno fatto il giro delle sette chiese e sono arrivate fuori comunque ridotte come uno scheletro coi vestiti ed è colpa della paziente che non si impegna non del sistema terapeutico che alimenta la patologia perché vuole sconfiggere il paziente questo ci introduce al tema più generale della psicopatologia e della psichiatria dove l'approccio paternalistico io per il tuo bene so cosa devi fare nel momento in cui si introduce questa lotta di potere dal mio punto di vista non c'è possibilità di venirne fuori io ho fatto per molti anni quest'anno si è interrotto per motivi di cambio di team anche il supervisore a un servizio specialistico per i disturbi alimentari di un'azienda dell'Alto Adige e devo dire che nel momento in cui dietologo dietiste e psicologi avevano capito questo approccio che non doveva mai andare nell'imporre di mangiare ma nel capire che questa persona faceva una guerra per qualcun altro poveretta la mia mamma che sta con un marito che la sottomette poveretta mia mamma o mio papà che sta con una suocera che si intromette cioè quello che va cercato è nella storia familiare dove c'è un tema di dominio nel disturbi alimentari questo è massimamente presente in altri disturbi sintomatici non è così marcato come nei disturbi alimentari naturalmente il tema del voler far fare agli altri è una malattia tipica umana Bateson diceva che il desiderio di potere è il padre di tutte le psicopatologie ed attiene solo agli esseri umani gli altri esseri viventi non ce l'hanno allora mi fermo qui per capire se fin qui è stato comprensibile allora vuoi che faccio dei commenti io però non voglio mi interessa se comunque anche solo scrivendolo se vogliamo dare voce per me io preferisco uno scambio così perché sennò diventa un po' sì non vedo nessun commento e vorrei invitare i partecipanti Marcello c'è un commento di Eva ok lo leggi guarda non lo vedo Laura aspetta un attimo scusami sì scusa vedo uno di Susana Brunelli e non vedo quello di Eva scusa vuoi andare tu vuoi leggere tu Laura è prima di quello di Susana vai avanti Laura leggilo facciamo lo facciamo dire a Eva sì d'accordo si partecipa sì Eva puoi puoi dire quello che hai scritto direttamente così puoi intervenire buonasera ciao Eva il mio commento si riallaccia un po' a quello che scriveva la signora Maida dove scrive non so se lo vedete dove chiede come la pandemia ha inciso sull'aumento dei casi di DCA negli adolescenti e quindi le correlazioni con il lockdown con questo picco di aumento degli adolescenti e io ho fatto un commento successivo in cui mi chiedevo se il mainstream cioè questa narrazione che sentiamo tutti i giorni in televisione aperte le virgolette il lockdown ha causato autolesionismo depressione e onoressione degli adolescenti chiuse le virgolette cioè questa narrazione è neutrale oppure un adolescente che per definizione non ha una identità ancora ben definita può in qualche modo come dire peggiorare nel senso identificarsi in questa narrazione quindi una persona che magari in tempi non sospetti senza questa narrazione non sarebbe caduta in questi sintomi come dire viene portata a agire questi sintomi oppure neutrale non volevo avere la vostra opinione perché a mio avviso invece la narrazione è una delle cause del picco forse se se ne parlasse di meno in televisione ci sarebbero meno adolescenti malati questa è la mia visione magari sbagliata no no allora neutrale non c'è mai nulla quindi fatta questa premessa semmai è il capire come allora se voi applicate il diciamo così il modello perché come ho detto io non non sono una che fa le battaglie di parrocchia dico sempre perché ho scelto una via e perché mi sembra più pertinente e penso anche che si debba modificare nel corso del tempo no quindi ci possono essere altri approcci dopodiché io ritengo che nella scienza e lo vediamo adesso visto che parlate della pandemia di cosa succede con la gestione di questo virus eccetera e sono i risultati che mi spiegano se la lettura la spiegazione la procedura che ho dato è corretta oppure no io ritengo che devo fare il follow up quando lavoro con i miei pazienti devo sapere se quello che ho fatto è stata di una qualche utilità o magari anche di dannosità perché attenzione ogni intervento anche psicoterapeutico può avere quello che si chiama un effetto iatrogeno cioè aumenta il problema invece che ridurlo l'aspirina è buona ma se io sono allergico all'aspirina mangio l'aspirina certo sto male quindi devo sempre avere questa apertura verso la ricerca dell'errore vengo alla pandemia allora seguite la premessa se noi abbiamo detto che il comportamento ogni comportamento è un messaggio e che è un quando esprime un disagio è un tentativo di soluzione a un problema più alto allora mi assumo la responsabilità di quello che dico ma giuro che mi sono documentata e che qualcuno se va su youtube troverà quella patta della dottoressa Gandolfi che il giorno mi pare 14 dicembre si è permessa di dire che era preoccupata per cosa sarebbe successo con i bambini parlo del dunque dicembre 21 ma mi ero già espressa prima nel giugno del 20 e che cosa diceva questa pazza dice questa pazza che risulta su youtube che questi disturbi sono l'espressione che è qualcosa di più che è la causa rappresentano l'incapacità dei tecnici del sistema sanitario di affrontare in maniera complessa un fenomeno complesso il problema della pandemia attenzione io non sono negazionista io non sono Novax chiarisco perché se no poi si viene preintesi infatti sono uscita sul giornale come la Novax mi trovate anche su youtube come la Novax io sono proscienza vuol dire che questa ingravescenza del disagio psicologico è il frutto della cecità del sistema sanitario che cosa ha fatto si è concentrata su un aspetto della pandemia bloccare il virus oggi ci sono numerose pubblicazioni scientifiche che ci dicono sperare di fare covid zero è impossibile e lo vedete è proprio uno degli aspetti è una follia del sistema sanitario che guardate ve lo leggo scritto nel 98 dove c'è questa idea che siamo disposti a rischiare l'autodistruzione per raggiungere e mantenere il totale controllo sottovalutando le alterazioni del sistema ecologico quando dico ecologico non mi riferisco alle erbette l'ho già detto ma tutte le connessioni e i rischi di tutto quello che comporta allora noi non abbiamo fatto un discorso selettivo chi proteggiamo chi non proteggiamo in quali contesti abbiamo detto il nostro nemico il virus lo vogliamo ammazzare quindi a qualunque costo compreso creare tutta una serie di problemi se noi togliamo le relazioni agli esseri viventi li uccidiamo questo sappiamo della psicologia la volta scorsa vi ho detto l'esperimento della scimietta quella che preferiva morire di fame ma stare in braccio a un peluche scaldato che la coccolava piuttosto che andarsi a prendere il latte dal distributore meccanico quindi nel momento in cui per ammazzare il virus tutti abbiamo dovuto stare lontani pensate che cosa ha significato per i bambini noi sappiamo la psicologia ci dice che il bambino da subito da appena uscito dalla pancia entro i tre mesi interiorizza la gestalt del viso ok che può addirittura essere lo sappiamo già che risponde a un disegno schematico dove abbiamo due punti il punto del naso e la bocca ora voi pensate di cosa abbiamo deprivato i bambini i danni di questo quando io ho una visione puntiforme è lo stesso problema dei farmaci io ti tolgo il sintomo e non guardo che cosa ti modifica di tutta la tua vita allora vedete perché l'importanza di un approccio complesso quando decido un intervento devo calcolare tutte le connessioni e scegliere l'insieme degli effetti iatrogeni negativi che si possono dare i disturbi psichici che sono stati sbandierati sul sole 24 ore su tutte le riviste sulle statistiche dobbiamo dircelo è un effetto secondario di una gestione dissennata tipicamente da superman del 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 concetto che per raggiungere la meta sapete quando si dice l'operazione è perfettamente riuscita però il paziente è morto ma è colpa del paziente che è morto non del chirurgo allora su questo non so forse verrò bannata di nuovo finirò sulla prima pagina del giornale ma non ho neanche un minimo di dubbi allora nascondersi ho sentito proprio a un recente congresso l'idea che hanno anche i medici quelli considerati Novax intendendo per Novax quelli più critici non parliamo dei miei colleghi psicologi che dicono questo aumento di patologia è dovuto al fatto che la condizione della pandemia ha slatentizzato una patologia sottestante ma ma che slatentizzato non ha slatentizzato niente perché vorrebbe dire che noi nella grande massa della popolazione siamo tutti portatori di qualche malattia psichica cioè voi capite che è un ragionamento che non ha nessun tanto perché vogliamo l'evidence base questi disturbi sono l'indicatore di come è stata modificata la possibilità di indispensabile di interagire tra le persone avevamo un problema nelle scuole bene questo hanno messo in evidenza i bambini che abbiamo delle scuole che non funzionano ma non funzionavano neanche prima infatti abbiamo un incremento già da prima della pandemia arriviamo 12 e mezzo 15 per cento di diagnosi di DSA ADHD e disturbo ossessivo provocatorio sono tutti venuti fuori male questi bambini no dobbiamo interrogarci su questo tipo di conversazione che viene fatta con i bambini che non vengono trattati per quello che sono io dico vengono colonizzati anche il paziente viene colonizzato per questo uso o vi ho introdotto al tema di disturbo etnico inteso come l'effetto culturale e quando dico culturale intendo micro macro culturale sociologico economico di tutti questi aspetti che incidono su che cosa vuol dire essere una persona sana allora in questi due anni c'è stato detto che tu sei una persona che funzioni bene se passi la vita a contare e uccidere il virus che hai addosso tutto il resto non c'è voi capite che è un atto psicotico noi siamo stati trattati in maniera psicotica non so se ho risposto al 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 quesito questo e questo ve lo lasciatemelo dire è uno dei motivi per cui io dico e non so se c'è qualche psicologo che mi ascolta ovviamente non sarà d'accordo con me penso che è gravissimo che sia stato concesso il bonus l'elemosina di 600 euro dicendo bene avete tutti un po' di raffreddore psichico vi diamo un po' di aspirina gratis ma voi pensate che si possa veramente fare un lavoro con 600 euro con un adolescente dove devi conoscere la famiglia ritucire la sua vita questa è proprio la visione di pochezza dell'essere umano ok è proprio l'essere umano è un grumo di cellule quindi ti do un po' di fertilizzante sei come il semino ecco perché vi ho fatto la metafora sei il semino ti do un po' di concime ti do due gocce d'acqua anzi ho il distributore che ti collega non importa non serve nient'altro abbiamo rotto la rete sociale abbiamo devastato la psiche delle persone molto chiaro c'è Susanna allora devo dire che lei mi sta piacendo sempre di più per la sua chiarezza di esposizione veramente molto chiara volevo chiederle le persone che si rivolgono a lei accettano di buon grado la sua lettura del problema e quanto ci mettono per realizzare questa situazione quando gliela spiega e arrivano alla consapevolezza o hanno la tendenza a scartarlo cioè rifiutano in un certo senso quello che perché non è facile accettare no questa cosa perché sono allora vediamo vediamo se riesco a rispondere in maniera corretta allora frase che ripeto fino alla nausea ai miei supervisionati allievi ormai siccome sono vecchia mi permetto di dire degli allievi questa mattina ho fatto 4 ore di supervisione online con ragazzi c'è una età dei miei figli sono avuti ultra quarantenni con famiglia ma per me sono appunto ragazzi e ricordo sempre loro come si fa una cosa cambia la cosa che si fa allora io non devo convincere il paziente la persona la famiglia che viene da me che io gli spiego cosa lui fa di sbagliato o cosa lui non ha capito o cosa dovrebbe fare nell'approccio sistemico non si fa questo nell'approccio sistemico si dice lei non sta mangiando io credo di capire adesso scusate prendetela veramente molto alla grezza voi capirete che l'inter l'approccio sistemico richiede che cosa una grande attenzione a capire il contesto in cui la persona vive e contesto vuol dire storia devo sapere l'età dei familiari devo sapere se c'era un trasloco devo sapere che scuole hanno fatto cioè in questo senso il sistema paziente mi offre il materiale da cui io posso vedere dal suo punto di vista a quel punto io gli dico guardi con tutte le cose che lei mi ha messo qua davanti io credo di capire che lei pensi così che se fa questo finalmente suo papà ripeto prendete non vi ho fatto adesso l'esempio specifico perché non diventa un po' troppo lungo è inutile che lei pensi che se fa quella che si impunta insegna a sua mamma a fare la femminista perché sua mamma guardi che la femminista non la vuol fare ripeto un esempio un po' alla grezza è inutile che lei pensa a un caso che ho proprio avuto ieri guardate che vostra figlia pensa che la mamma che ha avuto una storia oggettivamente molto pesante con la sua famiglia d'origine quindi una donna molto sensibile che reagisce tantissimo non ai maltrattamenti ma ha una iperreattività emotiva e i vostri figli pensano che il papà che invece è un grezzone io li ho tutti e due presenti ai genitori dico vede i suoi figli pensano che lei ha una testa di cuoio israeliana lei va sfonda i muri trova e non capiscono che in realtà lei ama tantissimo sua moglie non è capace di farlo vedere commento ah la signora pensi mio figlio ieri mi ha detto dodici anni mamma mi raccomando adesso che sei stata così gentile che mi hai accompagnato vai a casa mettiti giù riposati perché tu veramente ti sacrifichi troppo per noi e la signora dice mi ha colpito che me l'ha detto con un tono che sembrava un innamorato ecco appunto dico lui spiega al suo papà come dovrebbe fare con la mamma che invece dice su su dai non succede niente perché pensa che così alleggerisce allora vedete perché vi dico che sta nella comunicazione chi fa il mio lavoro deve come dire sentire nelle orecchie quando una persona dice una cosa una ne dice un'altra ma il messaggio non arriva quindi non si capiscono allora quanto ci mettono le persone dipende e dipende dal fatto che il terapeuta riesca a far vedere un altro punto di vista rispetto a quello che la persona vede allora io non ho qui adesso la possibilità di fare una condivisione schermo e di tirarvi credo di avervelo detto all'inizio se andate in internet e digitate le maschere di arcimboldo il cesto di frutta e la maschera e lì capite cos'è il mio lavoro il paziente arriva con un cesto di frutta mi faccio raccontare cosa c'è nel cesto di frutta la mera la pera la banana le ciliegie e poi dico ma non si è accorto che se lo guarda così viene fuori un'altra cosa quella è la capacità di perturbare la percezione nell'approccio sistemico non si agisce sul comportamento si cambia la percezione vi ho fatto l'esempio all'inizio e forse adesso vi risulta più chiaro quando noi vogliamo entrare dobbiamo aprire una porta spingiamo spingiamo poi il bigliettino dice tirare ecco diciamo che il modo di lavorare dal punto di vista sistemico è proprio questo non mettere più forza non obbligarti a mangiare non sottometterti non dire bene hai delirato di meno finalmente hai sentito meno voci ti sei comportato in maniera più controllata ma il motivo per cui ti succede questo tu fai questo hai visto se non c'è più l'hai riconosciuto e non vale la pena di farlo il paziente è designato si preoccupa sempre di fare un lavoro per gli altri molto scusa vai avanti Laura allora c'è una domanda su Facebook di Tiana Pestani a Pestetti che chiede quindi l'obbligo non serve e sono d'accordo qual è quindi l'approccio giusto con una ragazza anoressica allora guardate una cosa e questo vi assicuro che ormai lo sa chiunque minimamente qualunque sia l'approccio viene chiesto alla famiglia non parlare più di cibo non chiedere di mangiare e la cosa interessante qual è che la prima cosa quando viene una famiglia si dice guardi fin tanto che non capiamo che non abbiamo tutti da ci vuole un tempo normalmente nella mia esperienza clinica qui dico noi perché se c'è un disturbo alimentare importante noi poniamo la condizione di fare la consultazione con quella con la modalità classica inventata dalla Selvini che prevede normalmente due sedute di due ore con due conduttori di cui uno è nella seduta uno è dietro lo specchio la famiglia lo sa e non è che sono spiatti viene presentato eccetera eccetera il collega dietro lo specchio verbalizza tutto quello che avviene e voi capite quindi perché serve perché se uno interagisce non può anche scrivere tutto perché proprio nella comunicazione in questi scambi conversazionali che poi si troverà questo modo di ricombinare le cose e di spiegare non interpretare spiegare un'altra possibile lettura al comportamento problematico la ragazza pensa di quindi la prima cosa che la famiglia dice beh ma cosa possiamo fare noi diciamo guardate finché non abbiamo capito vi chiediamo questo non parlate di cibo normalmente questa fase di consultazione avviene entro due tre settimane dalla prima all'ultima dove concludiamo quella che si chiama la restituzione alla famiglia dove noi diciamo secondo noi questo problema dipende da quindi non lo so a priori lo so solo dopo che ho conosciuto la famiglia ecco perché non può essere un approccio standard tra l'altro allora che cosa viene fuori quando tornano dopo la prima seduta e noi chiediamo ce l'avete fatta a non parlare di cibo secondo voi qual è la risposta datemi un no bravissima allora questo ci permette di fare un passo avanti se la famiglia mi dice noi facciamo qualunque cosa per nostra figlia nostro figlio ci dica cosa fare e tu dici solo questo e non ci riesci vedete che si può cominciare con la famiglia a dire ma perché non ce la può fare a fare questa cosa e lì scopriamo che non risolvere non far mangiare è vissuto come un atto di impotenza da parte di entrambi i genitori di uno dei due genitori e questo ci permette di entrare dentro quello che vi ho letto prima perché in questa famiglia è così importante vincere una partita perché in questa famiglia è così importante dire io ho risolto un problema e lì si apre il mondo questo avviene già dopo la seconda non siamo ancora in terapia siamo ancora nella consultazione cioè la famiglia viene accompagnata a capire che il problema alimentare è la rappresentazione di una guerra di potere dove se io mamma non riesco a farti mangiare definizione del sé vuol dire che sono una cattiva mamma allora la guerra io sono una cattiva figlia se non mangio ma se mangio sono stata debole sono come dire sono stata ho accettato di essere sottomessa da una mamma che se si sente sottomessa si sente svalorizzata lo percepite il paradosso questa è la cosa più innovativa e più difficile dell'approccio della teoria sistemica Laura la prima volta aveva fatto un accenno aveva scritto lei qualcosa sulla teoria del doppio legame che è uno degli aspetti più difficili la patologia si sviluppa quando la comunicazione si attorciglia intorno a un paradosso io sono tua mamma voglio il tuo bene per me è fondamentale essere forte e risolvere i problemi quindi il messaggio che do a mio figlio è essere forti e risolvere i problemi e impegnarsi è un grande valore ma se lo fa mio figlio e mi dice no io non mi sottometto tu non ti sottometti io non mi sottometto allora sono cattivo non sono un bravo figlio e per giunta ti faccio sentire una cattiva madre riuscite a cogliere la paradossalità non sono sicura sembra sembra molto chiaro però ecco hai fatto una domanda che l'audience apprezzerei se potesse essere risposta dall'audience guardate abbiamo ancora dieci minuti vi leggo come ho spiegato il disturbo dell'AMOC di cui vi ho accennato allora il punto è proprio questo che il comportamento è contemporaneamente apprezzato ma anche considerato deviante che cosa vuol dire per esempio nella nostra cultura fare carriera è successo è molto apprezzato no? cioè cominci a prepararti con la scuola guarda che se non studi non hai un pezzo di carta bla bla ma se ti ti sacrifici ma se sacrifichi gli affetti e sei considerato una rivista o un immorale allora nella popolazione maschile dell'estremo oriente della Malaisia Indoesia e Nuova Guinea si conosce un disturbo culturalmente definito chiamiamolo così denominato AMOC presso tali popolazioni i comportamenti violenti sono banditi e considerati molto negativamente tenete presente che ci troviamo in una fascia del pianeta dove voi sapete che non solo la cultura ma la religione e cultura dominante è quella del buddismo quindi il tema della non violenza del non puoi uccidere nessun essere vivente è proprio costitutivo dell'identità tuttavia viene celebrato un eroe mitico che grazie alla sua brutalità riuscì a sconfiggere il tiranno e si chiamava per l'appunto AMOC AMOC sono coloro che presi da improvvisa rabbia compiono stragi apparentemente immotivate e pensate che proprio in questi territori che cosa faceva la popolazione adesso ormai tutto cementificato non li si trova più lasciavano delle armi a scopo di autodifesa in alcuni come dire come dei tabernacoli che se a qualcuno gli veniva il matto di essere un AMOC quindi un eroe esasperava un comportamento che è stato valorizzato ma che la cultura però generalmente non apprezza potessero autodifendersi capite il paradosso dobbiamo essere miti ma ci sono condizioni in cui essere brutali e valorizzato dopodiché quando è che sono in un polo e quando è che sono nell'altro questo è il dilemma paradossale della costruzione del sé posso chiedere una cosa? bene sì volevo chiedere non so se ho capito bene perché ho sempre il computer che mi si blocca nei momenti topi c'è qualcosa che ho perso che l'ha con me no no ce l'ha con me il mio è proprio il mio no allora se ho capito nelle famiglie dove c'è un'anoressica la madre deve essere forte deve imporre anche cose così e la figlia dice io se cedo soccombo cioè è una guerra tra due figure forse no se cedo soccombo perdo la mia integrità è così la domanda la domanda sarebbe perché in una famiglia dove c'è un'anoressica non è detto che gli altri fratelli lo siano sì allora punto primo noi parliamo del disturbo alimentare ma tenete presente che quello che vi dico per il disturbo alimentare vale per ogni altra psicopatologia quindi io ho accettato di parlare del disturbo alimentare uno perché per l'appunto è molto frequente è molto reclamizzato si presta bene a capire come appunto c'è questo atteggiamento paradossale no essere magri essere controllati non cedere alla tentazione del cibo ma dall'altra parte poi se lo fai troppo non va bene quindi c'è una doppia valutazione poi non è all'interno del rapporto madre figlia grazie che mi hai fatto questa domanda allora esempio io sono una ragazza vivo in una famiglia che ha una sua modalità di affrontare il tema anche diciamo salutista di mangiare in una certa maniera in una maniera corretta io sono la mamma di questa ragazza esco da una famiglia in cui il cibo è un elemento fondamentale di appartenenza il mio cognome Gandolfi denuncia la mia origine padana io sono nata a Bolzano ma voi capite che Gandolfi ne trovate a centinaia in Emilia ok infatti mio padre era emiliano bene nella mia famiglia io ho imparato a sei anni come si deve cucinare il ragù perché una brava rasdora termine etnico ok deve saper fare il ragù quindi a me è stato insegnato a fare il ragù secondo voi chi me l'ha insegnato viene fuori qualcosa la nonna il mio papà il mio papà allora vedete come non è esattamente il mio papà perché lui era di origine emiliana la mia mamma non era di origine emiliana la mia mamma era di un'origine meno godereccia così se vi parlo di me non faccio torta a nessuno allora la questione è il tema del sovrappeso è stato un tema fondamentale in tutta la mia famiglia e anche nella mia vita e del controllo alimentare in termini salutisti allora poi io faccio la mia vita ho due figlie io sono dell'idea che appunto gallina che non becca ha già beccato quindi le mie figlie ricevevano mi dicevano mamma io mangio la pasta in bianco va bene chi se ne frega mangia la pasta in bianco basta che mangi infatti le mie figlie piccolissime tutti si meravigliavano perché amavano il cavolfiore l'insalata semplicemente perché era sulla tavola secondo voi quando le mie figlie andavano a casa dal mio papà e dalla mia mamma che cosa succedeva che questi due nonni dicevano ma mangi così poco ma mangi la pasta in bianco ma sbrigati a mangiare e una delle mie figlie che è stata la figlia che ci ha fatto da trainer come genitori con un padre che per lui bisognava mangiare finché è caldo perché se no non è più buono sapete cosa gli chiedeva sempre i maccheroni e poi faceva così prendeva un maccherone lo infilava in un dito a casa nostra non l'ha mai fatto a casa dei nonni metteva il maccherone ognuno nel dito e poi mangiava un maccherone alla volta provate a pensare quanto ci metteva e era la figlia che non si è sottomessa mai ok allora i nonni che l'amavano e poi dicevano ma tu come fai a farle mangiare in quella maniera io dicevo guarda a me mi frega niente sono sane sono sane infatti non si amalavano mai quando erano piccole no allora questo per dire che la conversazione tu come figlia cioè io come figlia non mi sono sottomessa ho fatto una scelta di vita che i miei genitori non so mai se l'abbiano capito forse no perché per loro che io diventassi psicologa era una roba che non esisteva non sapeva neanche cosa facevo secondo me nel momento in cui divento mamma cercano di educare le mie figlie perché sicuramente io le educo male poi c'è anche un marito ma fa lo stesso quello là è marginale ok adesso io ve l'ho messa un po' così perché così mi spiace sempre quando sembra che parlo delle famiglie dei pazienti come rotte io esco da una famiglia che come tutte aveva i suoi problemi ok da una famiglia dove essere un maschio contava di più ma naturalmente per mio papà ma anche per mia mamma io sono anche di una generazione dove era normale ma le femmine dovevano saper fare tutto quello che sanno fare i maschi infatti io ho dovuto subito imparare a guidare perché una femmina deve saper guidare e mio fratello ha dovuto imparare a fare il ragù a casa sua cucinava lui cioè il cibo diventa il mezzo conversazionale per e chi faceva il ragù più buono e chi non faceva il ragù buono la prima volta che ho invitato mio padre a casa mia appena sposati secondo voi gli ho fatto il ragù no no bravissima gli ho fatto la zuppa cioè il ti voglio tanto bene ma sono in guerra con te dopodiché c'è la guerra da cui puoi il gioco dove ti puoi salvare e quello dove puoi morire diciamo che almeno nella mia famiglia non era necessario morire mettiamola così allora nella c'è Susanna c'è Susanna che è alzato posso chiedere ancora sulla mia domanda però scusa sulla tua domanda Laura quindi non è un discorso a due è sempre almeno triadico io mio padre mia madre io le mie bambine mia mamma mio papà no cioè non è mai una lettura né sul singolo né sulla coppia sempre sul triangolo ho capito ma in una famiglia dove ci sono due figli una anoressica e uno no cioè quello non anoressico ha più energia nel rifiutare questo rapporto di competizione di guerra guardate l'aveva già scoperto da Selvini e io lo trovo sempre quando avete l'anoressica l'altro figlio figlia è in sovrappeso cioè tutta la famiglia porta un disturbo alimentare che viene declinato in maniera diversa a seconda della posizione che il membro occupa a conferma quindi è in sovrappeso perché lui vuole soddisfare le richieste dei genitori o della mamma dipende dalla conversazione familiare non è così fisso quello che ti posso dire è che quando uno esprime un disturbo alimentare la conversazione sull'alimentazione in un modo o nell'altro riguarda tutti i membri della famiglia e come riguarda necessita della storia specifica della famiglia questo è il motivo per cui le linee guida non funzionano questo è il motivo per cui usare lo stesso approccio con ogni paziente che ha quel sintomo non funziona perché lo toglie dal suo contesto che lo genera ma questo vale per tutti le diagnosi per tutti i sintomi benissimo scusate se mi intrometto mi immagino che poi in quella situazione immagino magari un papà romano che dice al figlio un po' che era sottello brava papà mangia papà ecco appunto vediamo un po' Susanna vai avanti dai è sempre il cibo di mezzo perché io ho sempre sentito mia mamma dire è tu magna di aletto veronese è tu magna butto magna è cos'è tu magna cioè tutta sta roba sempre il cibo mai chiedermi ma stai bene come stai ti senti bene come ti senti come è andata oggi no è tu magna ma è una cosa più importante vabbè voglio farle un'altra domanda forse è per quello che il sintomo il sintomo si sviluppa nell'anoressia se la domanda fosse stai bene perché avresti il mal di pancia tutti i giorni è una battuta attenzione scusami era solo una battuta certo ma quello che dice Susanna nel tono perché il tono è significativo e Susanna dice io non mi sento la figlia di mia mamma mi sento un tubo digerente che deve mangiare e questo non mi piace ma con tutti dall'altra parte dall'altra parte per appartenere a essere la figlia di mia mamma mi tocca essere una che pensa al cibo vedete com'è questo il tema dell'appartenere e chi posso essere io per me ok Susanna prego una domanda si era un'altra e quando invece si invertono i ruoli quando è la figlia o il figlio che fa da genitore ai genitori come mai e che succede ne vedo un sacco no no questo succede sempre qua allora il sistema in natura tutti i sistemi hanno una gerarchia funzionale allora le gatte allattano i gattini gli uccelli fanno il nido per i cucini eccetera la natura necessita di una organizzazione gerarchica funzionale uno stormo di uccelli sa chi è l'uccello che guida ok negli umani che per l'appunto nella loro evoluzione della specie fanno un sacco di casini abbiamo scoperto questa cosa che anche esiste una gerarchia naturale ovvero i genitori cuccioli noi diciamo il capo famiglia adesso c'è tutta la questione sui cognomi no se avete visto come cerchiamo di complicarci la vita ma insomma dal tema della gerarchia funzionale non se ne esce perché è necessaria la sopravvivenza a un certo punto cosa succede quando la barriera naturale che dovrebbe separare il sottosistema degli adulti dal sottosistema dei cuccioli si rompe e un bambino viene dice cooptato cioè gli è concesso di prendere il posto di uno dei due genitori lì facilmente si genera almeno una sofferenza almeno un'endica per lo sviluppo del bambino lì c'è sempre questo altro grande insegnamento della Seldini quando abbiamo un disturbo di tipo psicotico sicuramente si è data una situazione in cui uno dei figli è diventato un partner sostituto nel momento in cui diventa partner sostituto ha una funzione protettiva verso il genitore quindi quando si va a fare si cerca di capire la storia l'identità la personalità di una famiglia questa è una delle prime cose che si fa che si va a indagare se la persona che arriva il paziente individuale allora no non dico quello che stavo per dire arriva un paziente individualmente non è solo le donne anche i maschi che vengono e si trovano incastrati in una situazione di questo tipo per esempio volevo andare in serie ogni volta che sto per partire mia mamma fa un ricovero in rianimazione perché c'è un infarto ci ho beccato una suocera così tutte le volte che dovevamo andare via tutte le volte la suocera la suocera è come se dicesse allora al marito ma tu con chi sei sposato sei sposato con quella lì che come nella barzelletta di Pierino non è neanche una parente la conoscete la barzelletta di Pierino no o sei sposato con me che sono la tua mamma allora in una situazione come questa dopo lì si tratterà chi esprime il disagio come si aiuta una coppia a sentirsi legittimata ad essere sposata vedete come la storia grave della signora dove i genitori non vanno al matrimonio io dico non viene benedetto il matrimonio la convivente uguale no allora cogliere questi passaggi storici non è dentro come si sente la singola cosa succede quando qualcuno dice io vorrei essere la moglie la compagna del mio compagno ma non posso perché altrimenti sono un amante che ruba il marito la legittima moglie la potremmo leggere così cioè invece che essere la moglie devo fare l'amante quindi viene prima la prima no scusate lo dico in maniera un po' così descrittiva però psicologicamente è così che ci si sente no tu stai a cuccia perché prima vengo io ma non è che lo dico perché se venisse detto certamente è più facile controbattere e quando viene fatto in maniera un terfellic sotto traccia no implicita manipolatoria allora vedete è una patologia del processo conversazionale della comunicazione e si lavora su questo nella terapia mi dispiace di intervenire un po' in maniera gerarchica pesante però siamo abbiamo speso circa due ore piacevolissime e io vorrei a questo punto probabilmente bisogna cominciare un po' a andare verso l'epilogo no ecco non lo so Miriam io vorrei dare spazio ad altri commenti io avevo annotato alcuni commenti che non so se siano interessanti tu direttamente avevi posto delle domande che forse erano dirette a me o no non lo so comunque dimmi tu Miriam come Laura e come procedere a questo punto allora se c'è ancora qualche domanda credo che abbiamo almeno dieci minuti ancora ben volentieri o se tu stesso Marcello o magari no puoi magari mi aiuti anche tu avendo sentito che cosa può essere più da sottolineare o da allora non vedo nessuna domanda io forse ti darò degli spunti grazie tu hai accennato acceno alcuni aspetti che forse non abbiamo forse saranno per la prossima dato che ci siamo fatti la piacevole abitudine di vederci un po' di frequente e forse continueremo per un po' di tempo e hai citato un po' l'America il modello americano del business nel trattamento dei disturbi alimentari che si è poi trapiantato in Italia con un vero e proprio processo di colonizzazione adesso sto parafrasando quello che hai detto però spero che sono un po' nella diciamo così nella cornice di quello che hai a cui ti riferivi e penso che sia un aspetto fondamentale perché effettivamente è il modello economico medico che si è imposto del complesso medico che si è imposto a livello globalizzante che poi sta creando quell'atteggiamento di controllo che è paradossale ecco vorrei se tu potessi commentare poi degli altri punti ma un commento su come la psichiatria no? come si è diciamo così piazzata a livello globale e sta rendendo molto difficile l'operato degli psicologi ecco specialmente in aree come come i disturbi alimentari non so se la domanda è chiara no no è chiarissima e ti dirò siccome sto cercando di scrivere un pezzo per ora x cioè oltre che per che per mad in america in questo momento mi sto dedicando visto che mi è arrivata questa domanda sulla pandemia se volete andare a vedere www.orax.me io lì sto mettendo dei pezzi di psicologia legati al tema della pandemia e questa domanda che tu mi fai torna calzante per il discorso che facevo prima cioè una certa psicologia in questo momento mainstream che avendo l'idea che la patologia è un danno individuale biologico quindi quasi il concetto di comorbilità ti sei beccato il virus e il virus porta con sé la 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 psicopatologia allora come è avvenuto questo processo questa è la lettura mainstream cognitivo comportamentale se non addirittura comportamentista classica allora faccio riferimento a quell'articolo che ho scritto le parole sono scatole magiche ma trappoli per topi dove vi facevo facevo notare che la culla della psicologia scientifica è per motivi storici perché nasce ovviamente dalla filosofia quindi da metà di ottocento dove abbiamo la produzione intellettuale in quel periodo in Europa per motivi chiaramente storici siamo prima della colonizzazione dei nativi allora tutta la psicologia nasce come un'evoluzione anche una liberazione da quelli che sono che erano tutte le acquisizioni filosofiche europee e con l'inizio dell'ottocento scusate con la fine dell'ottocento inizio del novecento cominciamo ad avere invece una psicologia americana autonoma che ha dato anche un grande contributo per due motivi uno perché diciamo l'approccio l'avevo forse detto all'inizio l'approccio pragmatico tipicamente anglosassone perché l'America di lingua tedesca è quella lì ha l'idea che se tu hai un contesto idoneo e modifichi le situazioni puoi risolvere tutti i problemi tant'è che in America abbiamo dimmi se mi sbaglio Meyer è il primo psichiatra che comincia ad avere l'idea della terapia occupazionale cioè che sia possibile recuperare anche il malato di mente che attenzione era un passo enorme rispetto all'Europa dove abbiamo Freud l'inconscio eccetera eccetera poi abbiamo Freud che sbarca in America e che in questo sbarco che era tra lui Jung e Ferenzky si dicono eh non sanno che gli portiamo la peste perché ritenevano di portare un grandissimo cambiamento in realtà cosa è successo l'America ha ripreso e mi vorrebbe da dire mangiato e digerito e quindi prodotto qualcos'altro ma tutto il percorso comportamentista è andato avanti in una maniera che in Europa non c'era allora noi abbiamo in Europa in America che cosa Barro Skinner allora quello è un punto di svolta siamo negli anni settanta io sono da tirarmi fuori la prima edizione l'ho dato in un esame all'inizio della mia carriera universitaria avevo questo libro e lui nella prefazione al testo italiano la prima edizione italiana dice un comportamentismo raffinato ci permetterà di avere una ingegneria sociale di altissimo livello che potrà essere applicata alla vita quotidiana quando quel testo è sbarcato in Europa in Italia mi ricordo che c'è stata la rivoluzione bene da quel momento in poi noi siamo stati colonizzati il pianeta è stato colonizzato da questo approccio e quindi quello che tu dici la la globalizzazione quella lettura in qualche maniera ha fagocitato altre letture alternative in particolare quella esistenzialista che era la base del gruppo inglese di forme quindi Lying e Esterson che era Basaglia perché eccetera ha fagocitato anche l'approccio bezzoniano perché dà l'impressione che tu veramente risolvi il problema stimolo risposta e il farmaco sembra quello che risolve proprio il problema agisco stimolo risposta a livello biologico quindi diciamo che quella spinta innovativa adesso è diventata pandemica e quindi non si interroga più di possibili altre cose perché sicuramente ha portato degli aspetti interessanti ma come tutte le teorie se diventa unica toglie è un po' come le monoculture noi sappiamo che se piantiamo un grano solo di un tipo poi sterilisce e c'è tutta la riscoperta della variazione dei semi questo è penso che sia questo il problema di smettere di confrontare le teorie e per questo per me la complessità è la via d'uscita per esempio io quando lavoro in terapia attingo a degli aspetti tecnici di tipo comportamentale faccio un contratto con le persone dico sempre lei è disposto a fare questa roba ma è disposto non gliela ordino e se non la fa non lo sgrido gli dico mi faccia capire perché non l'ha fatto quindi come dire non mischiando ma capendo che come si combinano come si impastano le cose ecco grazie risposto ovviamente il discorso andrebbe approfondito un altro l'ultima domanda veloce di Eros l'ultima allora conoscendo alcune amiche con queste problematiche e ritenendo molto valide le cose da lei illustrate come poterle aiutare suggerendo il suo nome un suo libro grazie Eros allora non so il libro se uno vuole io ho scritto questo manuale di tessitura e il primo capitolo anzi capitolo zero si intitola il mistero della mente qualunque quindi secondo me può leggere chiunque poi può essere anche difficile non lo so sicuramente l'ho scritto con grande passione questo per vedere poi le persone alcuni mi hanno detto che le è piaciuto certo a me non piace non sono brava a farmi autopromozione sarà come Marcello strategicamente sono una una tragedia non faccio PR non aggiorno il mio curriculum su internet sta roba qua eccetera fa niente rivolgersi a me chiunque può rivolgersi a me e io poi dico anche se è lontano se ho qualcuno a cui indirizzare se può venire io faccio sempre prima una quella che si chiama una consultazione cioè dico alle persone se penso di essere in grado di aiutarle e come e questo viene fatto in quello che noi chiamiamo la consultazione psicodiagnostica se faccio un colloquio sono almeno tre sedute se uno mi manda una mail e mi dice come per esempio dopo l'altra volta Laura mi ha girato una mail e ho detto guardi in quel caso lì per questi motivi io non posso non è possibile fare una cosa diversa io rispondo e accetto teoricamente chiunque ma naturalmente se uno mi scrive da da Napoli non credo di poterlo aiutare ecco ma magari gli è utile leggere il libro questo è possibile che si intitola manuale di tessitura del cambiamento e il fatto della tessitura spiega perché il modo di lavorare altre domande se non ce ne sono se vuoi vado avanti qualcune riflessioni prima che chiudere grazie grazie hai portato a gala con molti dettagli il problema della i problemi etnici o l'aspetto etnico e volevo solo mostrare una se non ti spiace vedi questo è un libro di etno psicofarmacologia che sto a beh è una edizione nuova ma ci sono molti concetti attinenti appunto alle dinamiche delle della prescrizione che vengono ignorate da da noi psichiatri generalmente e poi quello che hai detto sulla psichiatria come approccio psichiatrico lo condivido perché in un certo senso noi psichiatri stiamo un po' in una non voglio giustificarci e non voglio nemmeno inveire contro la mia categoria però siamo un po' in una gabbia dove dove siamo un po' forzati ad avere un atteggiamento organicista e è chiaro che molti di noi perché poi non insomma si rendono conto che è un po' restrittivo no? Alcuni scelgono la strada del pragmatismo cioè uso un po' di tutto e quindi uso quello che funziona non do solo le medicine è un po' una tecnica è un modo di pensare aleatorio poi ci sono quelli che un po' si ribellano in maniera molto forte e quelli che si adeguano e tutte e tre le posizioni presentano dei problemi quando c'è un contesto essenzialmente organicista ti ho detto la mia esperienza che io ho dovuto trovare degli espedienti per uscire dal dipartimento di psichiatria e andarmene col dipartimento di medicina di base ecco hai qualche riflessione su quello che hai detto? Allora io a te penso che il problema e poi tu lo descrivi anche si capisce con una sofferenza personale no? perché è un po' come dire io vedrei qualcos'altro ma non posso e questo è terribile a volte lo si vede anche in terapia no? Io intravedo io terapeuta intravedo delle cose e capisco che non potrò metterle in atto e questo è sempre una sì un peso una sofferenza soprattutto quando riguarda i bambini per esempio quello che dici tu è legato anche a un'altra crisi anche della della psicologia secondo me ancora più grave perché la psicologia è tornata a fare quello cito Tibaldi benché abbiamo a volte anche così degli aspetti di diversità che diceva ma la psicoterapia o lo psicologo è visto in una funzione ancillare no? Cioè lo psichiatra cura poi siccome i pazienti rompono un po' le scatole adesso detta molto fuori dai denti andiamo a farlo raccontare a parlare a lamentarsi con lo psicologo e poi lo psicologo accetta questo ruolo invece di diventare colui che aiuta non solo il sistema paziente a capire il significato del suo star male questo vorrei che rimanesse alla fine dei nostri incontri non a stare meglio a capire il senso del suo star male quando ho capito il senso il paziente può decidere se lo abbandona o non lo abbandona finché non ho capito il significato quindi non è matto non ha senso ha un significato che il il terapeuta può aiutare il paziente non solo a capire ma a sapere che qualcuno capisce come lui questo è poi quello che introduce ah ma allora lei vede questo ah allora non sono proprio matto del tutto dico guardi non è che è matto è che lei si mette nei casini a fare una roba del genere le vale la pena eh allora questo sposta il focus io capisco che lei ha la massima buona volontà ma guardi se vuol fare il kamikaze non posso farci niente allora questo dà significato a ogni comportamento bizzarro naturalmente devo avere un paziente con il quale posso anche interagire qui si aprirebbe il problema dei pazienti gravi istituzionalizzati vi ho detto che io do supervisione anche a questi casi che sono la discarica umana lo dico veramente con rammarico ma c'è questa mentalità inutile che ci diciamo che non ci sono più i manicomi esistono ancora i manicomi e come quindi il punto è proprio questo che lo psicoterapeuta può essere anche colui che dà significato al comportamento del paziente e che aiuta lo psichiatra se lo psichiatra lo accetta ad avere quelle informazioni che altrimenti non ha perché si prende il tempo perché pensa che deve capire però questo presuppone che tanto lo psicologo psicoterapeuta quanto lo psichiatra siano curiosi della vita del loro paziente e questo è l'aspetto poi interessante ogni volta che ti interfacci con una persona non sei un guardone perché chiedi delle cose sei curioso di capire e questo i pazienti lo capiscono secondo me giusto per arrivare al quesito credo di Susanna o di chi quanto tempo ci vuole se il paziente capisce che lo aiuti a capire io ho una una percentuale di abbandono piuttosto bassa posso arrivare a dire al paziente più di così non possiamo andare avanti ma di abbandono direi che non ce n'ho non ce n'ho qualcuno c'è naturalmente ma in percentuale no bassa allora non ho nessun'altra domanda vorrei fare solo una un ultimo stimolo per te Miriam e poi chiudi come vuoi no adesso le rotelle non mi funzionano bene però ecco cerco di esprimere in una maniera migliore in un mondo in cui il controllo è all'ordine del giorno un mondo in cui assistiamo a un controllo economico dei mercati mi sto spingendo anche su un tema politico mi auguro che ci sia tolleranza nel gruppo e non venga assalito quindi il controllo dei mercati sulla società e quindi anche sulla salute mentale un controllo anche che deriva da funzioni narcisiste che sono innate forse nella cultura occidentale estese poi a livello globale ecco come possiamo aspettarci che noi come operatori sanitari diventiamo immuni da queste dinamiche e poi come lo siano gli stessi pazienti individui che vediamo che interiorizzano anche quelle dinamiche a livello globale è un discorso molto complesso è una domanda anche molto complessa ma tu che ti interessi di sistemi penso che sia molto appropiata non mi aspetterei una risposta so che è difficile però puoi puoi chiudere con qualche diciamo pensiero su quello che ho detto sperando che quello che ho detto faccia senso perché fa tantissimo senso allora guarda punto primo io dico che siccome sono ottimista sono convinto che la natura vincerà e sconfiggerà l'essere umano mi considerate ottimista nel senso che l'uomo sta andando all'autodistruzione per questo quello che tu chiami narcisismo cioè il narciso patologico è uno che non legge le informazioni noi abbiamo avuto non solo due anni adesso guardate con la guerra è palese che noi siamo stupidi non esiste nessun altro essere vivente così stupido come l'uomo detto ciò ok cerchiamo di andare avanti allora nella legge dei sistemi c'è un aspetto fondamentale ed è che il sistema a un certo punto passa ad un livello che sviluppa una sorta di autoimmunità no non è quindi di nuovo non è il singolo ma dobbiamo sperare che questa legge sistemica avvenga allora notizia di questi giorni non l'ho letto me l'ha riferito mio marito che per inciso è anche mio collega facciamo lo stesso lavoro e siamo con terapeuti quando lavoriamo in contesto di classico familiare ha letto sull'internazionale di questo mese che in Cina in Tibet per la precisione e non è un caso perché voi sapete che l'occupazione della Cina nel Tibet adesso non mi dilungo insomma dovreste sapere c'è una si è creata una popolazione di giovani anche laureati che si sono definiti gli sdraiati loro hanno pensate la Cina che funziona come le macchine no cioè addirittura c'erano delle vignette dove vedevi che nella fabbrica c'erano i bagni con il laser che passava velocemente che se eri dentro nel bagno il laser ti frantumava come ironia come humor nero dove loro hanno deciso che vivono diciamo quasi come delle popolazioni primitive vi faccio notare primitive cioè non si danno gli orari non vogliono fare carriera eccetera eccetera vi faccio notare che c'è un ritorno anche in occidente anche in Italia di persone che facevano i manager e che vanno a coltivare allevano le capre coltivano le rape eccetera eccetera cioè a un certo punto quando il sistema arriva al massimo della sostenibilità si genera qualcosa di nuovo ora se queste persone verranno sterminate col Napa non lo sappiamo e attenzione proprio queste questa comunità cinese diceva noi non faremo proteste violente perché altrimenti saremmo esattamente come quelli che vogliamo contrastare questo per pensare al 68 di cui io ho memoria dove si spaccava l'abbiamo visto anche adesso con i black block eccetera quindi il punto che tu poni Marcello è delicatissimo ormai ci sono studi sociologici antropologici se avete voglia di leggervi dunque mi pare che si chiami McCourt comunque transumanesimo è il titolo del libro della Delphi guardate leggetelo perché c'è proprio questo che cosa ci aspetta nel futuro di questo narcisismo umano oppure se veramente a un certo punto si svilupperanno questi anticorpi che a un certo punto rifiutano questa idea di onnipotenza dell'individuo ecco e qui si aprirebbe se volessimo parlare del futuro del transumanesimo sappiamo Musk Bill Gates e tutto quello che vogliamo il controllo genetico delle persone l'illusione che se tu controlli i geni abbiamo appena finito la mappatura del genoma umano potremo cancellare tutte le malattie compresa la vecchiaia pensate viene la vecchiaia non è considerata la prosecuzione neanche la fine la prosecuzione di un processo ma una malattia curabile questa è la è la psicosi umana del genere umano quindi noi nel nostro piccolo tutte le volte che possiamo io cerco sempre di attirare l'attenzione su questa follia dopodiché dobbiamo fare i conti con la nostra impotenza e chi fa il terapeuta sa che è una delle prime cose che deve imparare sapere che è impotente si impegna ma è impotente questo lo lascio anche a tutti coloro che ci ascoltano capire il nostro limite hai risposto in maniera molto esauriente ad un tema una domanda molto difficile quindi ci vorrebbero ore per elaborare un po' più ampiamente tra l'altro so concetti contenuti anche nel libro Homo Deus di Ariadie esattamente vorrei vedere se Laura vuole concludere Laura vuoi concludere tu a questo punto c'erano un paio di considerazioni che potrei leggere mai da saluta Eva chiede fate un webinar specifico sugli studi del dottor Maviglia nativi americani Eros suggerisce anche di etnopsichiatria molto approvato da Eva e Eva aggiunge a Roma stanno creando un centro diurno per DCA quindi disturbi del comportamento alimentare nell'ex manicomio Santa Maria Pietà violando la legge che vieta di usare gli ex manicomi per reparti psichiatrici questi erano gli ultimi commenti consentitemi in questi due anni quante leggi sono state infrante a cominciare dalla Costituzione scusatemi ma questa mi proprio mi viene dal cuore e sono puribonda per questo ripeto è vietato avere un pensiero divergente tutti questa se volete è la mia sintesi quando io dico che la scuola è la fabbrica per rompere i bambini dico che vogliamo farli normalizzarli e quindi psichiatrizzarli il pensiero divergente non esiste più io ho scritto questo articolo l'importanza di chiamarsi Ernesto di essere mancini vedete che c'è questa citazione di questa commedia di Oscar Wilde che era molto mancino come ben sappiamo e è questo che dobbiamo mantenere vivo il mancinismo mentale l'alternativa un punto di vista diverso e allora chiudo ricordiamoci primo concetto la malattia mentale non è una malattia mentale è una comunicazione che non riusciamo a capire quindi va tradotta ha sempre un significato ed è sempre la qualità emergente adesso oggi con questo di concetto di disturbo etnico vedete che significa questo è la qualità emergente cioè mostra porta in superficie la patologia del sistema gli adolescenti e i bambini psicopatologici sono la qualità emergente di un sistema sanitario che di sanitario non ha più nulla perché è diventato un supermercato di prodotti scadenti dove non esistono più scienziati della salute ma ho fatto un comizio ragazzi su questo tema come capite in tavolo ok va bene possiamo chiudere allora grazie grazie attendiamole a te Miriam grazie a tutti gli ascoltatori scusami Susanna ho detto che attendiamo la prossima volta se vorrà esserci provvederemo mi sono accorta che è diventato buio che non ho acceso la luce ok benissimo buona serata a tutti e grazie buona serata buona serata di nuovo buona serata